Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. In A1 verso Bologna, coda e tratti tra l'allacciamento con la 11 e il bivio con la variante di Valico-Baccheraia. Rallentamenti tra Firenze Sud e in Cisareggello in entrambe le direzioni. Sulla direttissima, stanotte in orario 21.6, sarà chiuso il tratto tra il bivio con la variante di Valico-Laquercia e Aglio in direzione Roma. Contestualmente saranno chiusi gli svincoli di Badia e Firenzola in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per la viabilità cittadina, Firenze fino al 5 ottobre, per lavori di realizzazione del nuovo marciapiede in Via del Paradiso, strada chiusa da Via Fortini a Via San Marcellino. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Grazie e buon viaggio!